Gli ospiti di che faranno la reaction dagli universi remake episodio 18 di notte sono Picnic Breac, Giulia, Uva, Ryan e... Chatunar, hey, Elisa, mi ha copiato la mia idea, scarsa turiera, scusi, mi dispiace, ma non c'è scritto gli universi, ma... Sì, conduco il programma degli universi di notte, hai scoperto, ma il magazine del sud è chiuso, mi manca, va bene. Ma comunque ci sono anch'io, come ospite di quest'areccio c'è anche il tizio dei magasini del sud, ma ci sono io in questa puntata, va bene. Ryan canta. In una parte del nostro mondo Si trova una strana città Tanti amici abitano qua Insieme a questi cartoni Ci sono tanti cartoni che incontriam Insieme li dobbiamo sconfiggere lì Con il potere dei nostri Trasformazioni Non siamo gli universi Andiamo a sconfiggere il mondo Non siamo gli universi Con il nostro potere Non facciamo tutto Anche sconfiggiamo i cattivi Siamo dei supereroi Una bella squadra, sì Facciamo la reaction degli universi remake Sì, di notte Episodio 18 Io non c'è bisogno di presentazioni Ma io non ci sono in questa puntata Sono Barbapapà Vi racconto una storia Che è molto 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 interessante Sì, sì Barbapapà Non ne frega un Non si dice le parolacce Tizio Da quanto Lisa, Paolo e Uva, Ryan Stanno vedendo la televisione Nudi Nudi Stanno vedendo la televisione Nudi Dai in piedi Lisa Ehi ragazzi Sì, ti piace, vero? Cosa facciamo? Dopo aver visto Qualche episodio Della casa del bambone di Gabby Ci vediamo un episodio Di Barbapapà Una grande famiglia felice Sì Perché no? Non ci sono? Vai, mettilo Wow Ma non lo conosco il Barbapapà Forse Dopo che Hanno visto Barbapapà Una grande famiglia felice Finito Dai Lisa Adesso basta Che facciamo? Andiamo a letto? E va bene Andiamo a letto Buonanotte Ciao Raianna Sta dormendo Wow Quindi Paolo Paoliniuva È il protagonista Degli universi remake Perché sta apparendo In ogni episodio Elisa Ma che succede? Come mai? Ma che succede? Elisa Sveglia Elisa Ma non sono nudi Non hanno nemmeno il pigiama Dai Elisa Andiamo Perché non andiamo Aspetta Me lo mette il pigiama No No Non lo mettere Adesso Dai Andiamo a fare qualcosa Che tu Guarda Svegliati Cosa c'è? Ma ci sono Il lava sbianca Perché mi sembra Una coppia Del mio episodio Episodio 9 Gli universi di notte Sembra la mia coppia Tu sei una scarsa atturiera A non commentare In premiera I commenti Zitto Mi sono dimenticato Una cosa E che cosa? Dobbiamo andare A comprare una cosa Aspetta Dove è il negozio? Dai Proprio così Il pigiama Ma se non hanno Il pigiama Mentre Paolo Elisa E Uva Ryan Si stanno Cominciando a Poi ricorda Che Quando prima di fare Gli universi Remake Gli universi Remake No La serie normale Degli universi Episodio Gli universi di notte Ciao amici A Bray 2 E' sempre sveglio di notte Non è ora Di andare a letto Si Si Bray 2 E' sempre a dormire Si Però noi stiamo andando Stiamo uscendo Dobbiamo fare shopping Shopping Io sto già tornando a casa Ho fatto la spesa Di notte Andando in quel supermercato L'ha aperto 24 ore Su 24 Ok Ciao Blay 2 Buonanotte Dai andiamo Prima che posso È troppo tardi Giulia Non ci sono io in questo episodio No non ci sei Giulia Non ci sei Comunque Posso indossare il mio pigi Che posso indossare il mio pigiama Se vuoi Durante Poi Elisa non gli ha disegnato il pigiama a loro Così Ma ho solo disegnato Ma ho solo disegnato In questo periodo Il 24 Ho solo disegnato il pigiama a Varaya Allora Vediamo cosa ci manca Nella nostra lista Dai Paolo Paolo andiamo È l'una di notte Sì è l'una di notte Sì lo so Però dobbiamo andare a comprare qualcosa Mi sono dimenticato qualcosa E va bene Si Paolo è lento come nella vita reale Lo so Finalmente è una cosa che mi piace Uva Ryan Guarda Andiamo nel reparto giocattoli Cosa vuoi Elisa? La casa delle bambole di Gabby Me lo potresti comprare? Sì Ma costa troppo Esatto Meglio non comprarlo Dai 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 Compriamolo No Compriamo quella cosetta là E va bene Te la compro Grazie Ma comunque nella tua versione Elisa non è comparsa Negli universi Lo so Ma non compare anche negli universi di notte 2 Della terza stagione Ma lo scoprirete in futuro Non Quando Franco e Francesco Annunciano la terza stagione degli universi Lo so E va bene Andiamo a comprarlo Finalmente Ho preso Il petto di pollo Ecco Se l'ha preso lui No Non ti sfuggirai E chi è quel tizio? Ah sì Te la sei cercata Oh re mio Dai Dobbiamo inseguirlo Chissà perché loro girano luna di notte Boh Vabbè Ecco qua Sei diffugiato dentro quella robetta là Comunque è un'idea degli universi remake La puntata dove Dove lui spiegava Bravo amichetto Capito Finalmente la nostra scorta di cibo Ma chi è dove l'hai preso Nei lego O da qualche parte Planton Che ci fai tu qui al cuore della notte Mi sto prendendo tutte le sostanze di cibo che ci sono presenti in questo negozio Ma tu non rubi I crab i passi Sei di giuno per sempre Sei di giuno Mai Sei di giuno per sempre Paolo E Uva Ryan Combattete Ecco No Non te la puoi fare Ah sì Prendi questo Comunque c'è la latta scenografia del letto Qua non c'è la scenografia dei cibo eccetera eccetera Anche tu Ah Elisa Uva Ryan Aiuto Aiuto Resterete morti di fame Questo trio Bendetta amichetto Mangeremo solo noi Voi non fate altro che morire di fame Ah sì Bene sai cosa faccio Qualcuno mi ha chiamato Ladybug La mia ragazza c'è Sì che io non sconfiggo il male Lucky Charm Aio C'è male tanti Aio Aiuto C'è la mia ragazza Ecco perché mi hai convinto in questo episodio Dai Uscite Uscite Presto Prendete tutte le proprie 6 cibo Non così fredda Miraculous Lucky Charm Un pezzo di cioccolata A che serve Ma perché c'è il Kinder Choco Bones Ehi Plankton Guarda cosa ho Dai I Kinder I Kinder Kinder cioccolato Ma se sono in Kinder Choco Bones Siete in trappola Arrendetevi Tu piccolo Vattene via Chissà chi è a qualcosa Ma se non aveva la kuma Boh Presa Ciao ciao Farfallina Miraculous Ladybug Anche questa volta È stata sconfitta Ci vediamo la prossima volta Ma Ma questo tizio aveva la kuma Oppure no Ladybug Buonanotte Sì giusto Ci sono gli episodi in cui Ladybug e Chattenor bagavano di notte Adesso cosa faccio Mi mancherò sempre molto di fame Me la pagherete cara Potessi rubare la ricetta del Krabby Patty Adesso andiamo a letto Si è fatto tardi Stavano facendo un bel pigiama party Loro tre E' stata una grande avventura oggi Adesso Andiamo cene a letto Si Buonanotte E da qui I nostri amici Si lo so Dopo aver salvato il crimine Anche di notte Hanno comprato Tutte le loro provviste di cibo E Ladybug Se era andata a letto Anche lei E tutti Rimasero felici E contenti Che bella storia Che bella storia Ragazzi Che bella storia Vero? Si E' bellissima la storia Giulia Bellissima Bellissima Quindi Faremo altre reaction di questi episodi? Certo Iscrivetevi al canale Mettete più mi piace Condividete e commentate Sulle altre reaction di Gli universi remake Anche se li sto registrando il 24 dicembre Nella Virginia di Natale Quindi se commentate Vabbè Lasciate perdere Ciao Vi è piaciuto il mio episodio? Degli universi di notte Fatto da me remake? Bello diciamo Bello Si Molto bello Andiamo cene a letto Si Andiamo cene a letto Grazie a tutti